amici di fustella rotante un saluto dal vostro andy e benvenuti a questo nuovo unboxing oggi entreremo nella scatola di roam missione nelle terre arziane amici di fustella rotante un saluto dal vostro andy e benvenuti a questo nuovo unboxing oggi entreremo nella scatola di roam missione nelle terre arziane il nuovo gioco di ryan laucat edito da red raven e portato in italia da dv giochi andiamo subito a scoprirne il contenuto iscrivetevi se non l'avete già fatto al nostro canale youtube e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutto quello che pubblichiamo andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola di roam scatola bellina compatta troviamo subito il regolamento allora come tutti i giochi dell'autore le illustrazioni sono veramente meravigliose l'illustratore è l'autore stesso regolamento abbastanza snello scritto molto grande andiamo oltre abbiamo un po di fustelle vediamo un po allora finitura è lo spessore ottimo perché sono belle belle grandi finitura telata abbastanza liscia però non troppo ruvida al tatto taglio abbastanza preciso delle fustelle rispetto al disegno si staccano benissimo direi che ottimo lavoro togliamo anche qualche tessera andiamo un po qualche illustrazione molto molto belle essere hanno un'ottima rigidità un bello spessore sono belle belle anche al tatto abbiamo un po di di altre fustelle di tessere poi abbiamo un bustozzo di segnalini di legno vediamo un po sono dei quadrati dei parallelepipedi di legno dei vari colori molto piacevole a vedersi con questi angoli stondati e poi abbiamo un bel mazzo di carte che andiamo ad aprire la dimensione direi che potrebbe essere un 60 per 120 un 60 per cento me troverete come al solito nella descrizione la misura esatta delle carte allora ottima telatura un po leggerine devo dire come carta molto molto morbide però diciamo una volta imbustate il problema viene meno la telatura molto molto accentuata molto piacevole al tatto e queste rappresentano tutti i vari elementi della mappa perché queste verranno messe al centro del del tavolo e formeranno in sostanza la mappa e qua abbiamo invece i personaggi gli hide eccoli qua i personaggi che abbiamo imparato a conoscere un po anche negli altri giochi dell'autore dato che i suoi giochi sono almeno gli ultimi tutti ambientati in questo stesso mondo molto belle illustrazioni questo è tutto per quanto riguarda il contenuto di rom non ci resta che andare a provarlo è tutto per adesso mettete al come al solito se vi va un pollicione in su in giù dove volete in qua in là alla prossima restate in gioco ciao